Al pronto soccorso di Arezzo di notte si potrà entrare solo citofonando. Per motivi di sicurezza l'ASL comunica che dal primo aprile l'ingresso al pronto soccorso rimarrà chiuso dalle 23 di notte alle 7 del mattino. I cittadini che vorranno accedere dovranno suonare il citofono corrispondente, citofono per il pronto soccorso, che ha invece la necessità di recarsi in altre parti dell'ospedale, parenti di ricoverati eccetera, dovrà suonare al citofono con l'indicazione accesso ai reparti. Ci siamo adeguati, fanno sapere dalla ASL, al modello adottato un po' in tutti gli ospedali d'Italia dove la notte si entra solo citofonando. Fino a questo momento Arezzo rappresentava dunque un'eccezione. Un gruppo di lavoro si è occupato recentemente proprio del tema della sicurezza del pronto soccorso e dunque è stata adottata questa misura, anche perché negli ultimi anni si era verificato qualche episodio di aggressione all'interno della struttura, luogo dove si trovano operatori sanitari e persone che stanno male. In più era presente anche la frequentazione di senza tetto e persone che vivono ai margini. Con questa sorta di filtro dunque, per la sintetizzare le parole della ASL, sarà allo stesso tempo garantita la sicurezza di tutti e l'accesso al pronto soccorso da parte di chi ne avrà veramente bisogno.